Young Boys Inter termina 0-1. I campioni d'Italia, l'Inter ha vinto, ha stracciato i Young Boys soltanto con un gol di distacco che, vi ricordo, arriva, giunge, si palesa, diciamo così, nel secondo tempo, precisamente nella parte finale di questa importante gara di Champions League di ieri 23 ottobre 2024. A fare l'unico gol che ha portato l'Inter alla vittoria è stato Marcus Duram nel recupero del secondo tempo. Le statistiche promuovono l'Inter a pieno rispetto allo Young Boys, più possesso di palla, molti più passaggi, una precisione nei passaggi più alta proprio per l'Inter rispetto allo Young Boys che rimane a 0. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi, se vi va, commentate e una buona giornata a voi tutti.